Si respira un regaglio per un'altra cosa. Qua siamo un po' tutti rilassati, siamo tranquilli. Lì c'era la adrenalina che superava il tetto dal cuore campanacca. Perché le eccitazioni erano ai massimi diretti. Guardi, cari Puccini e Amèd Nassetta. E' un'amèd Nassetta. Per così, signori, vi parlo che non vi pare con la parte della squadra. Io vi ho avuto i casi anni. La 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 la. Gessi a cominciare il terzo posto. Dario Coppia e Sandriano. Dottisport, Radellano. Sesto posto, 3.39 di conto. dal centro medicina dello sport di canada e bianza Noemi Cisci, Elena Meri, Rosa Tassieri Eccole! Vi ho detto che vi facciamo vedere un po' di bene ragazze Francesca Marin, Giovanna Meloni e Gloria Giudici La Serena Cazzatore Domina Santa, Chiara Rossi, Alessandra Furi, Susanna Serafini Eccole qua! Chiara Rossi, Alessandra Furi, Susanna Serafini La Paria Sport di Villa Santa Terza migliore in prestazione femminile